Buonasera, ecco questa sera ci troviamo qui all'antica taverna di Villa Maina in provincia d'Avellino in una bellissima mostra d'arte organizzata proprio dall'assessorato alle culture e dal sindaco di Villa Maina. Qui davanti a noi ci abbiamo il famoso artista Rabel. Buonasera artista, come andiamo? Buonasera, bene, abbastanza bene. Qui ci troviamo in un luogo che rappresentiamo Lamefite, luogo magico e misterioso Valle d'Azant, Lamefite. Ci sono alcuni totem che riguardano sempre il passaggio dell'uomo nel suo mistero profondo della storia. Qui davanti ci abbiamo la Grande Madre, rappresentiamo la Grande Madre, la Terra, in tutti i suoi progressi e le sue evoluzioni. Dalle profondità della Terra di Viscele saremo su, su con i suoi sfiati e i suoi fuoricidi di gas e continua all'infinito da migliaia di anni. Lamefite poi è costruito con un sistema sul legno e sabbia dellamefite. Qui lamefite rappresenta la Grande Madre, la Terra rappresentava la Terra della fertilità e dell'abbondanza. Dall'altra parte di dietro invece abbiamo sempre un'altra immagine che ha dato la storia all'uomo, riportando sempre sulle scritture. Io l'ho chiamato lo scriva, cioè che è lui che ha portato avanti la storia dell'uomo, scrivendo su papiri, su fogli, portando avanti la storia. Va benissimo, grazie Raffaele e Bertoline. In ante? Rabel. Buonasera.